. Trattamento per rafforzare ossa e articolazioni . Per rafforzare le ossa, non si dispone solo della medicina di laboratorio come unica risorsa. È possibile, infatti, ricorrere ad altre alternative naturali che possono essere usate come integratori o trattamento principale, a seconda dei casi. . Dato che ossa e articolazioni sono il supporto del corpo, è importante prestare attenzione ai disturbi e ai dolori che si presentano, per evitare che si prolunghino nel tempo ed essere costretti ad abbandonare le proprie attività quotidiane. . In questo modo, si scongiurano le limitazioni e una minore qualità di vita. . . Bisogna considerare che l'organismo presenta un progressivo deterioramento con l'avanzare degli anni. I dolori a ossa e articolazioni spesso si presentano come conseguenza di processi infiammatori, infezioni, traumi e un'ampia varietà di malattie croniche. . 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 Due cucchiai di semi di zucca. Due cucchiai di semi di sesamo. Due cucchiai di gelatina in sapore. Cinque cucchiai di semi di lino. Tre cucchiai di uvetta. Una tazza di miele. Preparazione. Prima di tutto, si mettono i semi nel frullatore e si unisce la gelatina in sapore insieme all'uvetta e al miele. Poi si aziona il frullatore a velocità massima e si frullano tutti gli ingredienti per due o tre minuti, fino a ottenere una miscela omogenea e priva di grumi. Quando è pronta, si versa in un recipiente con coperchio e si conserva in frigorifero. Consumare preferibilmente a digiuno. Ripetere il consumo prima del pranzo e, se si desidera, anche prima della cena. Consumare per un periodo di tempo considerevole affinché sortisca effetto. Il rimedio può essere diluito in mezza tazza di acqua tiepida per facilitarne il consumo. Conservare in frigorifero, non oltre i due mesi. Per ottimizzare i risultati di questo trattamento naturale, bisogna mantenere corrette abitudini alimentari. In questo senso, si consiglia anche di, limitare il consumo di bevande gassate, cibo spazzatura, sodio e zucchero. Aumentare le porzioni di frutta, verdura, carne magri e cereali integrali. Bere latte vegetale, preferibilmente con aggiunta di calcio e magnesio, per rafforzare le ossa e le articolazioni. In caso di infiammazione e ritenzione idrica, assicuratevi di assumere abbondante acqua e bevande diuretiche. Affiancate una sana alimentazione con un programma di allenamento fisico in accordo con le vostre necessità e capacità fisiche. Avvertite dolore e pesantezza alle articolazioni. Vi preoccupa soffrire di problemi ossei? Preparate questo rimedio naturale, vi risulterà un grande alleato per mantenervi forti e sani. Grazie per la visione!